Mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico 2018-2019, come ogni anno in queste ore è tempo delle ultime verifiche, organizzative soprattutto ma che riguardano a Campobasso anche la questione della sicurezza degli edifici scolastici. A Palazzo San Giorgio è attuato un piano di controllo per garantire le verifiche di sicurezza delle strutture. Il sindaco del capologo di Legione Antonio Battista fa il punto della situazione. Continua in qualche modo il monitoraggio che abbiamo attivato nel corso di questi anni con il completamento degli studi su tutti gli edifici scolastici, ne stiamo ricevendo degli altri, l'ultimo è la scuola di Viaiezza. In queste settimane anche a seguito dell'evento sismico ma non per quel motivo abbiamo iniziato anche dei sopralluoghi, delle verifiche puntuali proprio per far trovare presidi, genitori e studenti nelle migliori condizioni possibili anche di manutenzione dei nostri edifici. Per quanto riguarda il futuro si guarda ancora la realizzazione di nuove strutture. Palazzo San Giorgio ha lanciato un concorso di idee. L'obiettivo attraverso la rimodulazione degli 11 milioni di euro stanziati originariamente dalla Regione per la Galleria da Sant'Antonio di Lazare al Terminal Autobus e l'aggiunta di altri stanziamenti comunali è quello di arrivare ad un programma di interventi di 16 milioni di euro. Su questo abbiamo i finanziamenti nostri che passano per la Regione, sono i famosi fondi della famosa delibera Cipe, gli 11 milioni destinati originariamente al sottopasso di via Insorti d'Ungheria. A quei fondi abbiamo messo circa 5-6 milioni dell'amministrazione comunale quindi avremo una disponibilità di circa 16 milioni di euro. Ovvio che bastano per quello che abbiamo programmato ma nelle nostre volontà, nelle nostre intenzioni è che entro un giro di 10 anni noi dovremo totalmente rinnovare il patrimonio edilizio scolastico della città di Campobasso. Quindi ci sono altri programmi che metteremo all'attenzione della Regione Molise che immagino ci sarà vicino ma in modo particolare del Governo.